C'è chi ha raccontato l'esperienza personale di parenti che fumavano e poi dopo disperati tentativi sono riusciti a smettere. Altri hanno concentrato il loro lavoro sull'importanza di convincere le persone ad abbandonare il vizio del fumo. Quest'anno sono stati gli studenti e le studentesse dell'istituto comprensivo IC16 Valpantina a partecipare al concorso indetto dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ognuno ha raccontato il suo punto di vista, utilizzando le parole pure della giovinezza. Nel nostro lavoro abbiamo voluto mettere a confronto un fumatore da un non più fumatore, cioè suo papà e mio nonno. Le abbiamo intervistati e abbiamo voluto trasmettere un messaggio. Il messaggio è che il fumo rovina una persona e rovina anche la famiglia di quella persona e rovina tante famiglie ancora oggi. Abbiamo lavorato per una canzone che Ritornello era cantato, invece il resto era parlato. Io ho scritto la canzone, un mio compagno ha cantato e altri miei compagni hanno letto e invece un altro compagno ha scritto la musica per la chitarra. Pensi che la musica possa contribuire a far smettere la gente di fumare? Sì, molto perché adesso anche con il rap che chiama, attira le nuove generazioni, diciamo che un po' spinge e provoca i ragazzi a voler fumare. E quindi secondo me se un rapper dicesse che non bisogna fumare, allora la nostra generazione ascolterebbe molto di più. Il concorso coinvolge i ragazzi delle scuole medie per sensibilizzare a non iniziare a fumare, perché è proprio a questa età che un ragazzo su cinque comincia a fumare. Noi da anni lavoriamo con i ragazzi su un progetto particolare di prevenzione al fumo. Sono interessate le classi seconde e vede la collaborazione di diversi docenti, dalle scienze all'educazione motoria, gli insegnanti di lettere. I ragazzi devono realizzare un video, un video che inviti a non fumare. Abbiamo scelto il linguaggio del video perché riteniamo che sia quello più accattivante, quello più moderno, che piace anche ai ragazzi. Il concorso è fatto di supporti multimediali, disegni, video e così, realizzati dai ragazzi che servono a sensibilizzare ancora di più a non iniziare a fumare.